ehi guarda quanti pesci ora li catturo tutti oh no aiuto aiutatemi aiuto ciao mi chiamo riccardo e aspetta un attimo george che ti succede? aspetta che ti do una mano volevo catturare dei pesci e mi sono catturato da solo grazie riccardo per avermi liberato george i pesci è meglio catturarli con una canna da pesca non con questa rete ma io non ho nessuna canna da pesca tu ne hai una? no non ho nessuna canna da pesca ma allora come facciamo a catturare i pesci? george niente di più semplice andiamo in negozio e compriamo la canna da pesca guarda george ecco un negozio vediamo cos'hanno buongiorno vi servirebbe una canna da pesca salve guarda sta proprio vicino a te sì fantastico ci sto la compro molto bene la canna da pesca costa 25 d'accordo ecco a lei 25 grazie per l'acquisto fantastico ora ho la mia canna da pesca george dobbiamo prendere un po' di questi insetti li useremo come esca ehi tu vieni qui ah ah eccoti qua l'ho preso guarda riccardo ho catturato la cavalletta ah ah guarda george anch'io ho catturato l'insetto bene ora possiamo andare a catturare i pesci dai muoviamoci bene attacchiamo l'esca al lamo bene ci siamo molto bene ora catturerò qualche pesce bene george hai catturato il pesce ora tira la lenza verso di te bravissimo george hai catturato un pesce davvero grande ora è il mio turno sì ce l'ho fatta ho preso un pesce anche io riccardo cosa ne faccio di questa rete come potrei usarla fammi dare un'occhiata ah sì potremmo fare un'amaca sì ottima idea solo che mi mancano alcuni pezzi dai andiamo a casa e prendiamoli hai visto questa è la casa di george dai entriamo dentro ora è tutto in ordine riccardo guarda potrebbe servirci per l'amaca fammi vedere no per l'amaca non va bene ehi ho visto qualcosa di interessante questa struttura è ideale per l'amaca molto bene allora andiamo ehi george che fai questo è il mio guardaroba ma peppa ci serve per costruire l'amaca peppa facci la cortesia prestaci la struttura noi intanto rimuoviamo tutti i vestiti accuratamente va bene d'accordo però voglio costruire l'amaca con voi ma certo peppa tutti insieme sarà ancora più divertente urrà andiamo a costruire l'amaca ehi aspettatemi va bene porto io la struttura dai andiamo ora leghiamo l'alete anche dall'altra parte molto bene l'amaca è pronta prima io prima io che bello si adoro l'amaca adesso io fantastico avete visto ce l'abbiamo fatta a costruire l'amaca grazie riccardo mi piace un sacco hai visto george abbiamo trovato una funzione alla tua rete e al mio guardaroba peppa george sono contento che l'amaca vi sia piaciuta e anche tu con i tuoi giocattoli puoi fare lo stesso e se il video ti è piaciuto lascia un bel like iscriviti al canale e ci vediamo alla prossima avventura ciao ciao